Che cosa sta facendo Alfano e il nuovo centrodestra con lo Iusoli? Quello che stanno facendo noi non lo sappiamo, non riusciamo a capirlo. Sappiamo solamente che un sottosegretario del suo ministero e del ministero dell'Interno, un sottosegretario in quota a Matteo Renzi per cui è il Partito Democratico, ha detto che i figli dei rifugiati saranno cittadini italiani e questa cosa la decideranno automaticamente con una circolare che partirà dal ministero dell'Interno a breve, dando il via praticamente a lui Iusoli. Quello che noi abbiamo chiesto stamattina è che Alfano smentisca immediatamente quelle dichiarazioni del suo sottosegretario, perché è un sottosegretario del suo ministero, e che dica che questa cosa non sta nel cielo e nel terra. Se non lo faranno gli chiediamo a lui le dimissioni perché non è coerente ma è una corrente all'interno del Partito Democratico. Poi se i renziani pensano di attraverso una circolare cambiare tutti i valori e tutte le identità di questo stranissimo paese e dei nostri territori, noi ci opporremo e battaglieremo fino in fondo, perché Matteo Renzi cammina sulle acque e prima o poi scenderà da quelle acque e si ritroverà veramente in una palude difficile.